C&G, Dei Fratelli Cascio, autocarrozzeria con banco d'ima, auto di cortesia e verniciatura a forno, soccorso stradale H24, noleggio auto, furgoni e minibus, centro revisione autorizzato per auto e moto con personale specializzato, convergenza elettronica in 3D, equilibratura, officina meccanica computerizzata, centro di agnosi elettronico, ricarica aria condizionata con gas di ultima generazione R1234, Restauro Auto d'Epoca, C&G, Dei Fratelli Cascio, tanti servizi, al tuo servizio, a Termini Imerese, in Piazza Europa numero 7, di fronte alla stazione, telefono 091 819 0332.